Ecco, quasi pronto. Adesso devo solo farlo girare un po'. Ah. Certo, sì, fallo girare. Insomma, questo siero che hai realizzato è una soluzione temporanea o gli toglierà i poteri definitivamente? Non definitivamente, solo per il tempo necessario a fermarlo. E quanto crediti ci vorrà ancora? Non molto, manca solo... Che cosa fai? Una cosa che... che forse avrei dovuto fare... tanto tempo fa. Barry... Oh mio Dio. Guarda chi c'è. Sì, lei. Ti ho cercato dappertutto. Sono qua, eccomi. Cosa c'è? Chi sta incastrando Eddie, ho pensato. Non potrebbe già aver agito così in passato. Nell'archivio del Picture News, ultimi undici mesi, ho trovato ben sei reati imputati a persone che giuravano di essere innocenti. Nessuno aveva precedenti e tutti avevano degli alibi di ferro. E allora? Allora... Ho forzato l'account di polizia di mio padre e ho visto il video di Eddie che spara ai colleghi. Che dobbiamo fare, Tom? Guardate. Morire. Chi avete voi due? Eh? Eh... Niente. Non ho fatto niente. Non so che dire. Il video... è convincente per me. Osserva. Eddie non è mancino. È stato palesemente incastrato e dobbiamo scoprire chi è stato. E credetemi, quando gli metterò le mani addosso si pentirà di... Oh, mio Dio! Che cosa ha fatto? La sua osservazione sul tiratore è giusta, signorina West. È veramente mancino. Come quest'uomo. Il nostro Barry usa la destra. Oh, ne ero sicura. Lasci perdere. È lui l'omicida? È lui, sì. Devo portarlo alla polizia. Vedranno cosa sa fare e libereranno Eddie. Sarebbe meglio se ce ne occupassimo io e la dottoressa Snow. E cosa avete intenzione di fare? No. No, no, no. Lo porto dentro. Va bene. Iris, fatti almeno aiutare.